Ciao, volevo parlarvi del fatto che sto per partecipare alla famosa sfida di dei trucchi e cercherò di parlare le più lingue possibili per cercare di spronare me stessa, darmi una motivazione astra per cercare di finire questa sfida con le più lingue possibili. Ciao, volevo dire che partirei del challenge di Daitalki e provo a spostare a me spostare, a me spostare a me spostare, anche grazie a questo video per cercare di finire il challenge in tantissima lingua come potrei. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao! Ciao, ciao! questo progetto, voglio fare tutto quello che volevo fare questo progetto e volevo fare questo progetto, volevo fare questo progetto, volevo studiare e volevo essere motivati, perché è stato molto importante per me. Hallo, il mio italiano non è così bene, ma io voglio fare l'Italki-Challenge e questo è il mio secondo progetto. Io voglio fare molti attraversi, voglio anche extra Motivazione per questo progetto. Io ho spero, che a fine, che a fine, che a fine, che a fine, che a fine io voglio fare l'Italki-Challenge, che a fine, che a fine, che a fine, che a fine voglio fare l'Italki-Challenge perché voglio parlare molti idiomi, voglio studiare molti idiomi, voglio parlare molti idiomi, voglio fare molte, molte ore con gli studenti, gli con gli altri professori, e quindi voglio vincere questo progetto. Ehm, I'm sorry for my Spanish, for my English, for my German, for my bad Czech, but I'm from Italy, so, so far that's, that was the best result I couldn't, I couldn't imagine to do, I'm sorry. So feel free to criticize, to criticize, and I'm sorry I am so, so I'm I'm a completely unalphabet and I'm just feel nervous, so, okay, try to be a little bit nice with me, try to have a little bit mercy with me, and please don't destroy me if you can. I really apologize for all my mistakes and, yeah, keep on going, challenge, and italki people. See you then, bye. 3, 2, 1, Happy New Year!